I controlli adesso ci sarebbero, ma evidentemente fatta la legge è trovato l'inganno, come recita quel vecchio adagio. Se fino a pochi mesi fa sul ponte di Casalmaggiore Colorno, ristrutturato e riaperto a giugno 2019 dopo quasi due anni di chiusura, si passava senza controlli né di velocità né di peso, ecco che adesso che sono stati installati i sensori, qualche camionista continua a fregarsene bellamente delle regole e di questi strumenti che dovrebbero incastrare i furbetti. La segnalazione giunta alla redazione non è isolata, tanto che l'episodio riportato non sembra un evento casuale, ma un esempio di un modus operandi purtroppo diffuso. Giovedì intorno alle 17.45, racconto un testimone oculare, mentre attraversavo il ponte da Casalmaggiore in direzione Colorno, ho notato un mezzo pesante che mi veniva incontro procedendo contro mano. Non stava sorpassando nessuno, dato che è vietato, e io ho frenato e lampeggiato per segnalare la mia presenza. È rientrato nella sua corsia facendomi dei gestacci. Perché un azzardo del genere, peraltro su un'infrastruttura dove è vietato viaggiare oltre i 50 chilometri all'ora? Ho notato, scrive l'autista, che la manovra era presumibilmente stata fatta per evitare i sensori che pesano i mezzi di passaggio sul ponte, visto che si trovano proprio dove il mezzo si è spostato nell'altra corsia per evitarli. Non sono riuscita a prendere la targa, ma visto che ci sono le telecamere non credo sia difficile scoprire queste manovre e punire i responsabili di questo comportamento pericoloso sia per la stabilità del ponte che a questo punto anche di chi rischia un frontale con questi furbetti.